Oggi, come dicevo, festeggiamo il pensionamento di Izzetto dell'Esercito Italiano, che è un cavallo che serve i ranghi dell'Esercito da quando è nato, 1999, ha fatto sei anni di attività agonistica e poi dal 2005 è effettivo nei ranghi dell'Accademia Militare e ha servito in uniforme per addestrare gli allievi ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri. Oggi va in pensione, però gli garantiamo una seconda vita grazie alla collaborazione instaurata con ASD Equilandia, collaborazione che sta diventando sempre più solida e sempre più forte, negli interventi assistiti con animali e quindi una seconda giovinezza per Izzetto, però una grande attività che lo aspetta a favore di bambini ed adulti che sono un po' meno fortunati di noi. Una nuova vita per un cavallo assolutamente speciale, una grande donazione, l'ennesimo gesto dove l'Accademia dimostra un grande cuore, una grande partnership. Siamo contentissimi come Equilandia di ospitare questo meraviglioso animale che per anni è stato a servizio dell'Esercito. secondo noi potrà ancora dare tanto a livello sportivo, sarà sicuramente un settore sportivo differente, un attimino più vattata vista l'età del nostro Equilandia, del nostro Izzetto e quindi non vediamo l'ora di iniziare a lavorarci insieme e a dargli una seconda prospettiva di vita. Quindi ci sembra giusto e doveroso prenderci cura di questo animale e quindi lui si prenderà cura dei nostri bambini e ci prenderemo cura di lui. Nel nostro istituto vengono trattati come militari, come se fossero esseri umani, quindi lui ha fatto la sua carriera militare, al termine della sua carriera militare viene ceduto a titolo gratuito all'associazione, in questo caso all'associazione Equilandia per progetti futuri nei confronti ai disabili. Il setto è un cavallo che nasce nel 1999 nel nostro centro allevamento che si trova a Grosseto nel centro militare veterinario, poi ha fatto l'iter di addestramento verso il centro militare di equitazione che si trova a Montelibretti e successivamente la sua attività agonistica. Dopo una buona attività agonistica, ha fatto categorie fino a livello di altezza fino a 1,30 m, si è dedicato all'istruzione degli allievi ufficiali dell'Accademia di Modena, ha svolto tutte le lezioni nei confronti degli allievi, sia quelle per l'equitazione di base sia per quelle dell'equitazione avanzata. Al termine di questo iter, ormai a 20 anni, per una live patologia che compromette l'attività formativa, quindi attività di istituto, può dare ancora molto nel servizio nei confronti dei bambini che noi abbiamo chiamato speciali.